Si avvicina finalmente la presentazione da parte della von der Leyen della nuova commissione. In Italia tanto si discute di quale sarà il ruolo di fitto, ma si discute male, pensando che una vicepresidenza sarà un riconoscimento all'Italia, anche se il commissario non rappresenta il paese, più da fedeltà all'Unione, di fare gli interessi generali dell'Unione, di non prendere istruzioni dal proprio paese o dal proprio governo. E se il ruolo dei commissari dipendesse dalla forza del paese non avremmo mai avuto presidenti lussemburghesi, ma se fitto avrà una vicepresidenza, a cosa sarà dovuto? Sarà dovuto alla politica europea, cioè all'interesse di Ursula von der Leyen di dare una vicepresidenza a un esponente di fratelli d'Italia e quindi dei conservatori riformisti europei, per rendere a questo gruppo più difficile da un lato votare contro tutti gli altri commissari, da una parte, e dall'altro poi votare contro la legislazione europea durante la legislatura, perché la legislazione europea che viene proposta dalla Commissione, viene proposta dalla Commissione nel suo insieme, perché la Commissione è un organo collegiale, cioè non è il singolo commissario che presenta un atto legislativo, è la Commissione nel suo insieme. Allora, avere una vicepresidenza renderà più difficile per i fratelli d'Italia in particolare e per i conservatori riformistici in generale, votare sempre sistematicamente contro le proposte legislative della Commissione. Quindi, da un lato, quelli che non vedono l'ora di avere un vicepresidente della Commissione infitto, devono anche iniziare a ragionare se poi intendono impallinare sistematicamente le proposte legislative di quel vicepresidente.